Il contrario della paura è il titolo del libro scritto da Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, che sarà presentato sabato 1 settembre a partire dalle ore 19 in piazza Vittorio Veneto presso il convento dei frati minori di Capaccio Capoluogo. L'incontro dibattito è stato organizzato dal comitato cittadino Capaccio Capoluogo e gode del patrocinio dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum. Alla presentazione del libro seguirà il dibattito dal tema Quanto è coraggiosa la nostra terra? Relatori del convegno insieme all'autore del libro saranno Antonio Manzo, direttore del quotidiano La Città e l'operatrice culturale Milva Carrozza.